Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto zucchine e zafferano. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 30 minuti. Gli ingredienti sono zafferano, vino bianco, dado vegetale bimbi, parmigiano, cipolla, sale, olio, riso, acqua e zucchine. Diamo il via alla ricetta. Inseriamo nel boccale la cipolla. 3 secondi, velocità 7. Uniamo adesso l'olio. E andiamo a riunire sul fondo. E andiamo a insaporire per 3 minuti, 100 gradi, velocità 1. Adesso uniamo le zucchine. Posizioniamo prima la farfalla sull'elame. Uniamo le zucchine. E un po' d'acqua. Chiudiamo. Andiamo a cuocere per 10 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Adesso andiamo a cuocere per 3 minuti, 100 gradi. anti-orario, velocità soft. Quell'indicazione segnalava che il coperchio non era chiuso bene, per cui basta quando vedete quell'indicazione chiudere meglio il coperchio e far ripartire gli bimbi. Adesso versiamo all'interno il vino bianco e senza misurino andiamo a sfumare per un minuto. 100 gradi, 100 gradi, sempre anti-orario, velocità soft. Adesso andiamo ad unire l'acqua. Zafferano. Solo mezzo cucchiaino di sale. e un cucchiaino di dado bimbi. Se si scava a girare smuovere un po' il riso. e adesso andiamo a cucinare. Allora, il tempo è quello indicato sulla confezione del riso. Nel nostro caso è 15 minuti. Sempre 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Bene, il risotto è pronto, adesso andiamo a impiattare. Risotto, zucchine e zafferano. Grazie e alla prossima ricetta.